Tutte le novità nel servizio di Emanuela Carcano, guardate. Da oggi, come invecchieremo, lo rivela il DNA. Qual è la nuova frontiera della medicina plastica? Individuare quali possono essere i difetti nel nostro patrimonio genetico, nel genoma e quindi di conseguenza dare dei consigli pratici soprattutto ed importanti per mantenere la pelle sana e giovane. Attraverso un semplice test, prelevando con un tampone alcune cellule della mucosa della bocca, è possibile determinare la mappatura genetica e di conseguenza contrastare i danni del tempo. Tu l'hai già sperimentato? Mi è piaciuto perché non è invasivo, inizialmente non serve se tu non hai una patologia specifica sviluppare l'esame del sangue e delle urine, ma basta un prelievo di saliva. Per cui, anche quando non ci sono di mezzo gli aghi, sempre volentieri si fa un test. Dalle informazioni ricevute, il medico potrà studiare un cocktail personalizzato di nutrienti, vitamine, minerali e altri elementi essenziali. Il tutto per rallentare l'invecchiamento e diminuire la possibilità di sviluppare determinate patologie legate al tempo che passa. Ci consente quindi di poter in qualche modo influenzare attraverso l'utilizzo di integratori anche questa predisposizione personale. Altro che filere e punturine di botox, non più trattamenti di massa a volte pesanti e invasivi. La parola chiave è prevenzione, con un vero e proprio progetto bellezza, anzi, bellessere.